Da oggi, carissimi amici, cari amiche che ci ascoltate con tanta fedelezza, e amicizie, grazie per questo, da oggi vorrei cambiare un po' visuale e cercare di riflettere in questo tempo in cui tutti siamo un po' diventati più poveri economicamente, siamo diventati più poveri forse anche di divertimento, di viaggi, siamo diventati più poveri di tutto. Ma se siamo diventati in queste cose più poveri, ci si può arricchire, arricchire in amicizia, riscoprendo la vera amicizia. E quando dico amicizia non intendo solo l'amicizia tra uomini, ma l'amicizia con Dio e l'amicizia con se stessi, perché se non sono amico di me stesso non posso essere amico di Dio e nemmeno amico degli altri. Possiamo arricchirci in senso, riscoprire il senso della vita, il senso della nostra esistenza, attraverso e ridando valore alle piccole cose, alle cose che prima forse ritenavamo insignificanti. a ridare senso allo stare nella famiglia, a vivere per la famiglia, a non vivere per se stessi, ma a vivere per gli altri, nel trovare il senso anche al nostro essere comunità, chiesa, famiglia, popolo di Dio. Quindi è un momento in cui il nostro impoverirci in cose che prima abbiamo considerato primarie, essenziali, ci arricchisce veramente in quello che è importante nella vita dell'uomo, nella vita della società. E dicevo, il fatto che siamo diventati tutti un po' più poveri, tenendo presente che, ahimè, quelli che erano poveri prima sono ancora diventati più poveri, e quindi la situazione sociale si è aggravata, e tenendo presente che l'uomo è sempre capace, nel momento in cui condivide, nel momento in cui condivide qualcosa è, la sua forza, le sue potenzialità, ma anche le sue fragilità, le sue povertà, le sue debolezze, nel momento in cui l'uomo si sa mettere insieme e condivide e lotta assieme, se ne è uscito sempre nella storia. E quindi questa è la nostra speranza. Allora vi dicevo, da oggi vorrei aprire una finestra, un varco, proprio sulla povertà, e sulle povertà, ma soprattutto sui poveri. Vi aspetto domani. Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti. Ciao a tutti.